Sei tu il primo che lo metti in dubbio? Sto qui! Sei tu il primo che lo metti in dubbio? Sto qui! Ma che stai a dire? Non stai qua, va bene. Non è così, mi dispiace. Senti, cosa che c'è? Tanto questo sei fa. Non gliela faccio, te giuro. Tanto questo sei fa. Non gliela faccio. Tanto questo sei fa. Sì, so far questo. Sì, sei fa solo questo. Mi credi? Tu, dopo tutte queste cose, vieni qua e mi dici... Tu questo sei fa. No, no, perché? No, perché? Se vuoi qualcuno che ti manda avanti le cose da sola senza che tu ti scomodi, Sì, manda le cose da sola perché? Ma io una che mi dice no, sapere il motivo perché sta là quando alla fine... Sì, sì, perché mi sono senti da solo messa in dubbio da parte tua. Se esterno determinate cose... Con te una volta stavo in Pariso, le altre dieci volte stavo all'inferno a scannarsi perché tu mi metti in dubbio a me. Guarda che è da parte di tutte e due, è da parte di tutte e due questo. Non è solo il percorso, se fai in due non si fa da solo. Se tu c'hai dubbi verso di me per determinati comportamenti, anche io ce l'ho... Eh, vengo là, metto da parte tutte le paure che ho, vengo là e cerco di risolverli con te. Eh sì, sto lì, c'ho la stessa motivazione tua, ma io non vengo qui a mandare giù cose che a me mi fanno male e sto sempre lì per te. Eh beh, invece ci devo stare io a mandare giù cose quando te non ci stai la tavola. Beh, che me faccio di perché sto lì? Vabbè, vabbè. Me faccio di perché sto lì? No, c'è ragione. Secondo te? No, c'è ragione. Ti posso dire che c'è ragione? Vai. Oh, vedete le colatte, che non c'è scritto il c***o di testa. Oh, vedete le colatte.